La scuola elementare Omero di Monza, presa di mira dai vandali. I gnoti sono entrati sabato nella scuola primaria e hanno distrutto tutto quello che hanno trovato. Una furia che ha lasciato senza parole docenti e personale scolastico. Segnalare il triste episodio il sindaco Paolo Pilotto, che evidenzia però anche la grande lezione di dedizione e di senso civico di chi si è subito attivato per rendere la scuola di nuovo accogliente per i suoi piccoli alunni. Da un lato la devastazione causata da chi infiltratosi nella scuola in un tardo pomeriggio ha deciso di distruggere con le proprie mani materiali didattici, computer e monitor interattivi, rovesciato armadi, imbrattato di vernice e pavimenti, muri e banchi, spiega Pilotto. Dall'altro, dopo pochissime ore, a partire dalla stessa sera e poi ancora la domenica, superato il sentimento di incredulità e sgomento, l'ammirevole dedizione delle maestre e dei maestri, della dirigente scolastica, del personale scolastico, comprese le cuoche, dei dirigenti e dei tecnici comunali, tutti a rimboccarsi le maniche, a lavorare fianco a fianco con un solo obiettivo, essere pronti a raccogliere i bambini, come ogni lunedì, come tutti i giorni, alle 8.30, con la scuola in ordine, pulita, a posto. E così è stato. La scuola non si ferma, ricorda Pilotto, già professore di religione e vicepreside del liceo Zucchi. Le cose buone, quelle che ogni giorno rendono positiva la vita delle persone, prevalgono. E con loro la passione per la propria professione, per il servizio da dare alla città, per l'idea di una comunità viva, che si aiuta a risolvere insieme i problemi. Si può essere più forti di chi, nella follia di un momento sbagliato, fa danni e perde i riferimenti, rischia di perderli per la propria vita. Si può essere presenti, con quella disponibilità ad agire, a rinunciare al proprio tempo, anche quello del riposo, per riparare, costruire, riempire il vuoto. Una lezione, una disponibilità che vale più di tante parole. Da primo cittadino anche un messaggio a chi ha fatto quei danni. Pensateci, avvicinatevi a qualcuno a cui volete bene, fate spazio a tutto il positivo che c'è dentro di voi e che magari in questo momento non riuscite a vedere. E fermatevi prima di compromettere la vostra vita.